La mia soddisfazione più grande come autore? Assister a qualcosa di cui le mie pagine sono state una remota ispirazione. Sulle pagine del mio, te lo leggo nella mente, racconto una storia dimenticata, quella di Harry Kane. All'inizio del Novecento i giornali non esitavano a chiamarlo sensazionale mentalista e la più grande meraviglia mentale della storia. All'inizio dei suoi spettacoli spiegava che le persone normali usano solo il 10% del cervello e che con un po' di allenamento si può arrivare a utilizzarlo completamente. Con queste premesse dimostrava di sapere scrivere 5 frasi diverse contemporaneamente su altrettante lavagne, tenendo i gessetti con le mani, i piedi e la bocca, memorizzare in pochi secondi 20 parole associati ad altrettanti numeri, compilare a richiesta quadrati magici basati su numeri scelti dal pubblico. Vanni De Luca incontra Harry Kane tra le mie pagine e decide di riproporne le meraviglie a un secolo di distanza. Il 28 marzo 2014 mi regala un viaggio nel tempo. Sul palco della teatroria di Torino risolve un cubo di Rubik, un percorso del cavallo degli scacchi e compila un quadrato magico mentre recita un intero canto della Divina Commedia, lasciandomi senza parole. Al vostro applauso un frammento delle meraviglie multiple. Felicito in sua legge, per torre il piasmo in che era condotta, e l'Este Miramis, di cui si legge, sette che succedete a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che Soddan corregge, ventidue, l'altra ecco lei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Siccheo, poi è che lo padrassi l'Osturiosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, cinque che con amore al fine combatteo, ve li parisse, tristano, e più di mille ombre mostrò mi nominò mi abito, l'amore di nostra vita li partì, poscia chebbi, il mio dottore urdito, nomar le donne antiche, i cavalieri, quindici, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Sette. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paio ansia al vento a essere alleggeri. Trentadue. E degli a me vedrai quando sarai più, saranno più presto a noi. Bravo Vanni.